Nella nostra politica di investire in nuove modalità di riduzione CO2 e di transizione energetica e quindi con questo grande valore di interscambio soprattutto con le università locali abbiamo intercettato il progetto Minerva dove è stata innovativa e ci ha presentato l'opportunità di testing del progetto Trachi. Trachi in realtà è un simulatore che viene installato all'interno dei veicoli industriali e in real time collabora con i personale viaggiante andando a indicare tutte quelle modalità e informazioni del percorso stradale, quindi pendenze, elevazione del suoro con un'informativa di riduzione della velocità e soprattutto della migliore guida più efficiente e più efficace. Sotto l'aspetto dei benefici di Trachi li possiamo suddividere in tre diverse settori. Abbiamo un miglioramento, una riduzione dei consumi, una riduzione delle emissioni atmosferiche e un terzo vantaggio di una maggiore e una guida più efficiente sulla quale c'è anche un vantaggio di riduzione degli incidenti stradali. Altri vantaggi del sistema Trachi sono che può essere utilizzato a qualsiasi veicolo e non comporta nessuna modifica di quelli che sono i planning di trasporto del veicolo e soprattutto dei piani di pianificazione del personale viaggiante. Grazie.